Ma, 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 è stupida la tua. Oh, gelita. C'è nessuno? Nessuno? C'è qualcuno in casa? Oh, gelita tazzo. E la polla va in delivio. Ci sarà un figurifo da qualche parte. Aiuto. Eccolo. Oh, gelita. Oh, gelita. Oh, gelita. Ah! 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 No! Ah! 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 Oh! Oh no! Cerchi! Buon soldi! La storia! Che vuole scontermi! Non so li ho corrotti tutti! Mettete qua Amina! Ecco! Così ti asciughi per bene! Domani mattina dobbiamo soffocare una rimonta! E poi... Ne riprenderò quello che è mio! Eh! Qualcuno ha mangiato il mio dolcello! Oh! Oh! Qualcuno ha mangiato il mio dolcello! Oh! Oh! Qualcuno non ha tirato la catena! Oh! 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 E quel qualcuno è ancora qui! Oh! Oh! Vuoi riprenderti il tuo orsetto Biancaneve? Oh! 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 No c'è di che il giorno si fa l'io, per... No c'è di che il giorno si fa l'io, per...